E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Questo è un progetto per quanto riguarda la scuola in continuità con l'associazione Prologo di Airula perché abbiamo lasciato i personaggi illustri per scoprire quelle che sono le bellezze architettoniche di Airula e del circondario. Partiamo con la conoscenza del castello perché didatticamente partire dalla storia del proprio paese significa educare gli alunni alla storia e quindi alla storia in generale, tra virgolette, la grande storia. Questo è un progetto che interesserà le classi seconde e che riscopriranno pian piano anche nelle varie fasi storiche l'evoluzione anche architettonica di questa costruzione di cui ora a breve tutta la popolazione di Airula potrà usufruire e vedere la bellezza di questa struttura. Questa idea nasce da una collaborazione che ormai si porta avanti da cinque anni con l'Istituto Van Vitelli di Airula. Il progetto quest'anno intende far conoscere alle nuove generazioni un bene culturale per eccellenza di Airula, il castello medievale che sorge sulla collina di Monte Oliveto. Si è scelta una nuova collana editata dalla Proloco dal titolo I Monumenti di Airula e si parte con il castello medievale. Il progetto si articola in due fasi. La prima fase sarà interamente dedicata alla ricerca bibliografica che verrà fatta dai ragazzi delle seconde medie, sostenuti ovviamente e supportati da due referenti della Proloco e da due docenti della scuola. La seconda fase sarà quella della presentazione ufficiale del primo numero di questa nuova collana intitolata I Monumenti di Airula e verrà presentata molto probabilmente nel mese di maggio. La scuola si apre al territorio e trova sul territorio tantissime associazioni. Una di queste è la Proloco di Airula e quindi collabora per promuovere quelle che sono le bellezze storico-artistiche del territorio.